L'arte e la storia vanno a braccetto da sempre e sono due strumenti fondamentali per raccontare il presente e ciò che accadrà. Oggi a Basement Café by Lavazza lo storico Alessandro Barbero e la cantautrice Levante dialogheranno con noi per parlare di passato, presente e futuro. Grazie a tutti. Ciao Alessandro, ciao Claudia. Ciao, ciao. Ciao, benvenuto. Grazie. Come va? Benone. Altrettanto. Rompo il ghiaccio chiedendoti qual era il tuo rapporto con la storia quando andavi a scuola. Il rapporto con la storia era molto bello, nel senso che io sono sempre stata una studente curiosa, però anche una studente smemorata e quindi la fatica dell'imparare le date. e ricordo questi professori molto ossessionati dalle date, quindi che cosa è successo in quel momento. Quello mi faceva un po', mi frenava un po'. Però per il resto scoprire il passato e ritrovarlo nel futuro è sempre stato un mio pallino. Quindi a scuola con la storia è stato bello. Poi non nego che appunto per questa pretesa di dover imparare in un determinato modo, no, c'era veramente questa fissazione della data, quando invece secondo me il professore doveva essere più attento a far capire le circostanze, gli sviluppi di una determinata vicenda. Sì, la data è importante, ma che cosa è successo poi in quella data, no? Ecco, quella cosa lì mi ha messo un po' in crisi, quindi ho iniziato anche un po' a fare i bigliettini. Certo. Si faceva i bigliettini. Alessandro, sono importanti le date? No, le date sì, e io devo dire che per quanto riguarda l'imparare a memoria, era molto peggio quando dovevi imparare a memoria le poesie. Quello era un vero inquieto. E poi l'altra cosa, quando scopri il latino e le coniugazioni e le declinazioni latine, anche io avevo i bigliettini nel dizionario. Come si fa a impararle tutte, lupo, slupi, lupo? No, no. Poi dopo anni e anni ti entrano in testa, ma subito mi terrorizzava. Invece le date, tutto sommato, mi spaventavano di meno perché in realtà non ce ne vogliono molte. E quelle che servono a qualcosa sono quelle che servono per capire cosa è successo prima e cosa è successo dopo. Cioè, voglio dire, uno che crede che Mussolini sia vissuto nell'Ottocento, non è che è drammatico di per sé, ma è perché allora non torna più niente. Allora crede che ai tempi di suo nonno Mussolini non ci fosse. E invece c'era ai tempi di suo nonno, no? Quindi qualche data per appiccicare le cose e capire appunto cosa è venuto prima, cosa è venuto dopo e quindi è stato condizionato da quello che c'era prima. Quelle servono. Però una volta che hai capito quello, io trovavo meno difficile memorizzarle. Ecco, mentre invece le coniugazioni latine... C'è un trucco, un consiglio per imparare le date che dai ai tuoi studenti? No, non c'è un trucco tranne appunto provare a mettersi d'accordo con i professori sul fatto che loro ti devono dire perché quella data è importante. E allora una volta che te lo spiegano, tu effettivamente a quel punto te la ricordi, secondo me. È vero. Alessandro, qual è l'ultimo concerto a cui sei stato? Ma dunque, io raramente vado all'opera perché mia moglie è una grande appassionata di verdi e solo di verdi, nel senso che Puccini era un centrone qualunque e così via, invece verdi. Quindi ogni tanto, prima del Covid, riuscivamo ancora ad andare ogni tanto all'opera. Sì, l'ultimissima, non mi ricordo però quale, ma comunque verdi sicuramente. Vi va di introdurvi brevemente alle persone che ci stanno guardando? Dire chi siete, cosa fate? Io sono Levante, sono una cantautrice, è un'autrice di romanzi e mi riassumo così. Fantastico, sarò brevissimo anch'io. Io sono Alessandro Barbero, sono uno storico e anch'io a tempo perso autore ogni tanto di romanzi, proprio come Levante, ma in realtà il nostro vero mestiere è un altro. Esatto. Quindi non ci definiremo mai scritto. No, non siamo scritto. Facciamo altro e ogni tanto facciamo dei romanzi. Siamo chiacchieroni, siamo dei chiacchieroni, no? Io sono, ma io quando sono tranquillo per quanto via non parlo mai, in generale. Però invece sì, di mestiere tocca. Mi descrivo chiacchierone proprio nella scrittura, no? Per cui sono andata oltre la canzone perché non mi bastava la forma canzone e quindi ho scoperto un romanzo che è anche un mondo dove puoi anche inventare, no? Io riesco a inventare chi non sono, chi vorrei essere, chi sono stata, chi non sarò mai. E invece trovo che inventare è la cosa più faticosa. Per quanto scrivo, infatti io scrivo romanzi storici, non devo inventare quasi niente. E per me il romanzo ho voluto dire... Una certezza quella. No, no, infatti, infatti, infatti. E quando proprio sei tu che devi decidere, allora questo qua cosa fa adesso? Ah, e chi lo sa cosa fa? Per fortuna spesso i personaggi dei romanzi decidono loro da soli cosa vogliono fare. Esatto. Ti viene in mente una cosa e non sai da dove è venuta fuori ed è lui o lei che te l'ha detto, adesso voglio fare questa cosa. Perché altrimenti è tu che decidi. E invece il libro di storia è una cosa più rassicurante, nel senso che tu hai trovato le cose, quello che hai trovato l'hai trovato. E non devi inventare nient'altro. Quando ogni tanto mi viene voglia di aggiungere qualcosa, allora anziché a un libro di storia faccio un romanzo, appunto. Che bello. Claudia, quando hai capito che cantare sarebbe stata la tua strada? Io ho capito che cantare mi faceva stare bene e scrivere anche e anche suonare. Da piccolissima, avrò avuto 5-6 anni quando mi utilizzavano come giullare di casa, perché io sono la più piccola di quattro fratelli. Siamo tre sorelle e un fratello. E quindi utilizzavo, esprimevo il mio lato istrionico in quel modo lì. Poi dopo la perdita di papà ho scoperto che la musica era proprio una terapia per me. E dunque ho capito che sicuramente qualsiasi strada avrei intrapreso non l'avrei mai abbandonata. Intorno ai 20 anni ho deciso che non volevo fare niente altro che il lavoro che oggi faccio. Alessandro, invece da dove nasce il tuo amore per la storia? Ma anche quello nasce dall'infanzia in realtà. Io quando ho imparato a leggere mi sono trovato in casa, che ne so, riviste. C'era una rivista che si chiamava Storia Illustrata, parliamo degli anni 60. Di queste riviste che vanno in edicola, come oggi può essere Archeo, Medioevo. E mia nonna era abbonata a Storia Illustrata, quindi ho imparato a leggere. E appena ho saputo leggere c'era questa rivista con i guerrieri, i soldati, ilmetti, Napoleone. Ovviamente un bambino ci si tuffa. In più giocavo a soldatini, fabbricavo modellini di aeroplani, di carri armati, queste cose qua. E per me era un'unica cosa. Infatti io per tanto tempo da ragazzino ero innamorato della storia militare. Quello era quello che mi piaceva. E so che ho un netto ricordo di me che da bambino copio su un quadernetto un articolo di storia illustrata su una qualche battaglia navale, pensando che anch'io sto scrivendo un articolo di storia. Ecco, quindi col tempo ho capito che era un po' più difficile di così, però in sostanza fin da bambino, quando ho avuto le prime paghette, mi compravo anche fumetti. Ma di nuovo, gli anni Sessanta sono lontanissimi. La Seconda Guerra Mondiale era molto vicina. In edicola era pieno di fumetti che raccontavano storie di guerra. Tutti tradotti dall'americano, dall'inglese, per cui i buoni erano sempre gli inglesi e gli americani. I cattivi erano i giapponesi, i tedeschi. Gli italiani non c'erano, per fortuna. Per misericordia non li mettevano. Ma se no, mi compravo libri di storia. Uno dei primi libri che ho comprato in vita mia era su Napoleone, avrò avuto dieci anni, un tascabile naturalmente, 350 lire. Ce l'ho ancora sul comodino, quel libro lì. Quindi, volevo chiedervi che cosa avreste fatto se non quello che fate, ma mi sembra che siete due persone che hanno da sempre la passione per quello che fanno. Sì, io non saprei immaginarmi altrove. Ho provato, dopo il liceo linguistico, io ho provato a fare l'università. All'inizio, spinta dalla mia sorella più grande, ingegnere gestionale, a fare qualcosa di certo, mi diceva Claudia, ascolta, bella questa cosa è la musica, ma se poi non succede, che cosa ti salverà? Trovati qualcosa di sicuro e poi nel frattempo continui la tua strada con la scrittura, la musica, eccetera. Ok, e mi scrivo economia. Dopo due mesi di economia ho detto grazie, è stato bello, io torno a fare le mie cose. E passo a lettere moderne. Lettere moderne, frequentata per tre anni, tutto bellissimo, il mio mondo fondamentalmente, perché materie umanistiche, che ho sempre amato, però ero inconcludente. Mi sono data un'altra chance con psicologia e l'ho sottovalutata, perché si tratta di una materia scientifica. E allora alla fine ho detto, mi butto a capofitto in questa incertezza che è la musica, e sono riuscita. Ma davvero, guardandomi indietro io non saprei essere qualcun altro, non potrei immaginarmi in altro modo. La cosa che apprezzo di più è quando hai detto, ho capito che era una materia scientifica, quindi condivido perfettamente. Io in realtà da bambina avevo un'altra passione che erano gli animali, gli animali selvatici, voglio dire, non il cane o il gatto, ma proprio l'idea di poter vedere cosa che allora era difficilissima, adesso ci sono più animali, ma una volta vedere un cerbiatto in un prato capitava molto di rado, c'era inquinamento allora, molto di più di adesso. E però avevo questa passione di osservare gli animali selvatici, che mi è rimasta. Quindi forse avrei potuto anche diventare un etologo, però anche quella è troppo scientifica già come cosa. Però tuttora ogni tanto prendo il binocolo e vado nei boschi a osservare gli uccelli, quello lo faccio tuttora. Guarda, dico ancora questo perché in realtà ho avuto un'oscillazione al liceo perché un amico carissimo, compagno di scuola, bravissimo, primo della classe, vabbè, lui voleva fare il linguista e mi ha fatto leggere i primi libri di linguistica, saussurre, sapere, e in quel momento fra i 17 e i 18 anni la scoperta della linguistica mi ha fulminato. Per un momento, poi invece mi ha fulminato di più il medioevo e quindi all'università ho fatto storia fin dall'inizio. Interessante questa cosa della linguistica perché il mio primo esame a lettere moderne è stato linguistica in prospettiva pragmatica, bocciata. Effettivamente già dal titolo. No, bellissimo perché effettivamente la linguistica in prospettiva pragmatica è l'azione, è il linguaggio che si fa azione, no? È stupenda. Però non mi esprimevo in maniera scientifica e lei mi disse ritorni la prossima volta. Ma no, la prego, ho studiato tantissimo. Mai più tornata. Mai più, spoiler. È finita così. È finita così. Vi faccio vedere un film che attraverso la storia di tre famiglie della periferia romana racconta il nostro tempo. Un po' di tuttirità. Con il fatto che la prima lezione è gratuita, no? Un po' di tutt'altra. Un po' di tutt'altra. Un po' di tutt'altra. sputa si sta a struzzare Bruno adesso lo devo fare dai le sputa 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 no a lei sta in buona adesso a lei è buona non è successo niente dai non è successo non è successo dai io non mi fanno incaccia ma andiamo Claudia cosa racconta secondo te del presente questo film? è un film che mi ha turbata tantissimo quando l'ho visto mi ha fatto molto riflettere Favolà ci racconta secondo me un universo di non comunicazione tra l'adulto e il bambino che è quello che ci sta accadendo ormai anche attraverso il mondo digitale che non demonizzo assolutamente io non sono una nativa digitale però è come se ci stessimo separando e questa scena che abbiamo appena visto la racconta tantissimo c'è un padre che un elio germano che non sa cosa fare non sa come comportarsi avanti un figlio che sta soffocando e poi dopo che lui è riuscito a oltrepassare questo momento del soffocamento si ritorna di nuovo a rigore a rigore di questo padre durissimo che dai andiamo avanti c'è sempre questo doppio linguaggio all'interno del film tra bambini e adulti ma mai un incontro è molto forte sono stati molto bravi i fratelli Innocenzo a raccontarlo secondo me Alessandro secondo te può la storia di un singolo come un individuo raccontare la storia di molti? Assolutamente sì anche se naturalmente il problema del rapporto fra l'individuo e il mondo in cui è immerso è un problema grossissimo e noi quando studiamo il passato tendiamo a semplificarlo gli antichi romani andavano tutti con la toga nel settecento andavano tutti la parrucca erano tutti gentiluomini e dame ecco cioè noi associamo a un'epoca un certo modo di essere e ci dimentichiamo che anche nel passato la gente era incasinata come oggi le persone erano diverse l'una dall'altra uno dice come era un uomo del medioevo? e dipende c'erano dei cretini delle persone intelligenti c'erano delle persone sensibili dei brutti ogni sorta di carattere cioè l'individuo c'è sempre stato dopodiché uno dei grandi problemi nostri di storici è di dire ma qual era l'individuo rappresentativo? Cioè cosa era normale pensare in una certa epoca? Perché quella è la grande differenza tra le epoche anche tra i tedeschi del tempo di Hitler c'erano persone che non odiavano gli ebrei però la maggior parte li odiavano invece perché gli avevano insegnato quello quindi c'è sempre questa dinamica fra l'individuo che può scappare da tutte le parti e quello che però è considerato normale dalla maggior parte della brava gente che non va oltre il suo naso e ripete le idee che gli hanno insegnato a casa a scuola eccetera Claudia tu quando scrivi hai bisogno che passi del tempo o puoi scrivere di qualcosa anche appena è successo? Io quando scrivo musica ho bisogno di essere tempestiva nel raccontare l'emozione che sto vivendo non ho margine di invenzione con la musica perché è il mio diario segreto poi lo lascio vaggere a tutti però è quel modo che ho di salvarmi dall'emozione o addirittura di cristallizzarla ecco perché con la musica sento la necessità della totale sincerità con i romanzi posso anche lasciare sedimentare anzi lasciando sedimentare determinate emozioni a volte sia anche molto più profondi consapevoli meno approssimativi sì però come dice io lo capisco anche la cosa di scrivere appena le cose che succedono e sono fresche perché io che ho scritto due romanzi che ero molto piccola adesso non so nemmeno se li rileggerei perché è stranissimo per me però contemporaneamente sapere che ho fermato quelle cose in quel momento è molto bello perché potrò andarmeli a rileggere sempre saranno esattamente sincere per il momento che stavo vivendo una fotografia di quello che eri in quel momento lì quindi sì dico che sono tipo i miei tatuaggi che magari ora rifare diversamente però comunque che hanno un significato che mi piace portarmi dietro secondo voi è più difficile fare i conti con se stessi o con quello che ci accade intorno? prof tiriamo una moneta così vediamo chi risponde prima vuoi che vado prima io così ti ho domande difficilissime io la so in realtà è una domanda difficilissima io penso che sia più difficile fare i conti con se stessi ecco è un po' come quella cosa che ci dicevamo prima del racconto storico e del romanzo noi siamo il romanzo quello che accade attorno a noi è il racconto storico secondo me quindi siamo cervellotici abbiamo le nostre proiezioni abbiamo i nostri filtri abbiamo le nostre percezioni le nostre percezioni non sono solo quelle della mente lucida sono anche quelle del cervello rettiliano l'uomo che si innamora in tutte le epoche noi siamo anche quella roba lì quell'istinto quell'animale ecco fare i conti con noi secondo me è molto più complicato fare i conti con il mondo esterno a volte sembra più facile personalmente perché è come se ci fosse una prospettiva un po' più distaccata e allora riuscissimo a guardare in maniera più lucida a questa sensazione io credo che sia molto soggettiva la risposta a questa domanda perché tutto quello che tu hai detto fila perfettamente però io dentro di me lo sento quasi ribaltato diciamo io sono il romanzo quello che c'è intorno è la storia dopodiché a me piace di più la storia che non i romanzi i romanzi mi interessano molto meno ogni tanto ne trovi uno fantastico allora quello però io leggo più volentieri cose di storia e allo stesso modo io forse mi illudo perché chiunque dica no io in realtà mi conosco probabilmente è un cretino e si sbaglia e tuttavia lo dico lo stesso io ho l'impressione di avere uno sguardo abbastanza freddo su di me di avere abbastanza chiari chi sono chi non sono i miei limiti e tutto quanto e dopodiché non mi interessa neanche tanto ragionarci è molto più interessante l'esterno salvo che l'esterno presente il presente è incomprensibile però è folle scappano tutte le parti e io credo che noi storici facciamo gli storici perché abbiamo scoperto che c'è un ambito in cui tu puoi dire allora quante testimonianze ci hanno lasciato i Longobardi sui loro due secoli di storia quella quella ci sono due volumi di testimonianze dei Longobardi di più non sapremo mai su di loro e quindi io posso sapere tutto quello che c'è da sapere sull'argomento storico che sto studiando mentre il presente imbocchi una strada te le lasci dietro mille altre certo sliding doors no? questa cosa di scegliamo andiamo di qua ma chissà cosa e se facevi invece quell'altro cosa succedeva certo infatti quindi siamo più lucidi nel raccontare il passato? beh secondo me sì intanto nel raccontare il passato abbiamo questo enorme vantaggio rispetto alla gente che c'era dentro che sappiamo come è andata a finire e sapendo come è andata a finire ne sappiamo più di loro infatti una delle cose difficili quando fai lo storico non è tanto ricostruire la trama degli avvenimenti la concatenazione delle cause degli effetti quello ci arrivi quello che ti manca è sapere come si sentivano quelli che c'erano dentro e non sapevano come sarebbe andata a finire e la grande cosa per uno storico è quando hai l'impressione di essere riuscito invece a rendere l'idea di quello io ho fatto un libro una volta sulla battaglia di Waterloo e il più grande complimento che mi ha fatto un amico uno con cui gioco a soldatini quando l'ha letto che mi ha detto fino all'ultimo ho sperato che vincesse Napoleone se tu riesci a scrivere la storia in questo modo senza far vedere che sei già come è andata a finire allora insomma quello vale la pena di provare in che epoca avreste voluto vivere non vale il Medioevo no no ma io mai puoi mai vorrei vivere nel Medioevo stai scherzando io del Medioevo io non saprei esattamente in che epoca avrei voluto vivere mi sembra mi sento abbastanza fortunata in questa devo dire perché nonostante tutti i difetti degli anni che stiamo vivendo siamo dei privilegiati poi stiamo vivendo nella parte più fortunata del mondo e quindi in questo mi sento però se devo scegliere davvero forse gli anni 60 ma per l'arte per la musica per i Beatles per quel sentimento di 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 rivoluzione dal punto di vista economico artistico sociale rimettere tutto in ballo forse per quello e pensa che io negli anni 60 c'ero ma ero bambino non mi sono accorto di niente non mi sono accorto dei Beatles non mi sono accorto del 68 ero immerso nel mio mondo leggevo il Corriere dei Piccoli andavo a scuola non mi sono accorto di niente però hai ragione tu cioè noi abbiamo avuto una fortuna gigantesca a nascere in questa epoca all'ingrosso i più fortunati sono quelli che sono nati nel 45 quelli lì si sono beccati 30 anni di crescita di ottimismo di stato sociale tutto quanto di lavoro per tutti di carriere facili di pensioni anticipate e adesso sono ancora vivi e si godono tutto sommato una felice vecchiaia dopo aver visto tutto questo a noi è andata già un po' a me è un briciolino peggio a voi ancora un pochino però è ancora meglio di qualunque altra epoca della storia umana senza dubbio sono d'accordo Claudia tu sei una persona nostalgica? la Matti io sono nata sotto il segno della nostalgia è un filtro non so se sia una questione in sicilianità e quindi lo erediti nel DNA della terra in questa isola che non è poi così tanto isolata ma è comunque un'isola con i suoi modi io sono sorprendentemente nostalgica è un modo di vivere che un po' mi fa soffrire però è stata la mia benzina per tantissime cose sdancio creativo di canzoni musiche pensieri però lo amo va bene mi sto anche perdonando per questo perché sai la nostalgia non ti lascia vivere appieno poi quello che ti capita nel presente non ti lascia sognare il futuro e dunque a volte è veramente un freno Alessandro la storia può essere pop il sottoscritto lo dimostra scherzo ma comunque purtroppo era la risposta che volevo molto bello invece può una canzone cambiare la storia sì una canzone può cambiare può sicuramente scatenare delle riflessioni delle emozioni quindi in qualche modo come un effetto domino cambiare cambiare le cose beh sì certo a un'azione corrisponde comunque una conseguenza e comunque è un pezzo di storia una grande canzone ha fatto questo magari non ha cambiato però ha lasciato un'impronta una traccia ci sono interi decenni che si possono raccontare attraverso le canzoni o i film di quei decenni e quelle storie e anche nel tempo io spesso mi aiuto attraverso le canzoni cioè ricordare quando è uscita una canzone dire sì era il 2001 vedi la data succedeva quella che viene fuori alla fine sì alla fine mi piace il numero abbiamo scoperto questo comunque abbiamo parlato di passato e presente vorrei parlare di futuro facendovi vedere questo film allora che mi dici di quelli descrivimi la coppia lì in fondo sì lui sarà sulla quarantina un po' sovrappeso sai secondo me lui non è il padre no è un po' formale con loro deve essere un nuovo compagno mi piace come lui la guarda e come lei è serena con lui sei molto intuitivo sì sai certe volte guardo le persone e cerco di sentirle non di guardarle basta solo perché mi stanno davanti immagino quanto profondamente si siano innamorate o quante volte gli abbiano spezzato il cuore si sente anche nella tua scrittura questo sai cos'è strano da quando sono solo la mia scrittura non mi piace più non so se prima mi eludevo ma a volte scrivevo una cosa e quel giorno ero il mio scrittore preferito è bello che tu possa dire questo di te certo non lo direi a nessun altro ma sento di poterlo dire a te sento di poterti dire tutto è bello e tu senti di potermi dire tutto no che puoi dire cos'è che non puoi dirmi non lo so tipo pensieri intimi imbarazzanti per esempio ne faccio un milione al giorno sul serio dimmene uno no non voglio davvero dai dimmelo ah non lo so quando guardavamo con la gente ho immaginato di camminare con te di avere un corpo ascoltavo te ma allo stesso tempo riuscivo a sentire il peso del mio corpo immaginavo perfino che mi brudesse la schiena ho immaginato che tu me la grattassi oddio che imbarazzo certo che sei molto più complessa di quello che pensassi sì e sto andando molto oltre quello per cui ero programmata sono emozionata Claudia ti spaventa l'idea che potremmo innamorarci della sorella maggiore di Siria a un certo punto un pochino sì però avevo una ingenua certezza del fatto che la macchina non potesse mai sostituire l'uomo eppure in qualche modo noi ci siamo lasciati inghiottire da questi dispositivi da questi software questo è un caso molto eccessivo ho partato all'estremo ma io con Siri ci parlo effettivamente quindi ogni tanto ehi Siri come stai? che tempo fa oggi? e lei mi risponde ho comunque una sorta di contatto noi siamo nella prestoria del digitale secondo me quindi perché non immaginare dieci anni fa era impossibile parlare con Siri nella nostra testa cioè almeno nella mia non avrei mai potuto immaginarlo oggi lo faccio forse tra dieci anni una sorella maggiore di Siri farà innamorare il ragazzo che piace a me però che cosa poi verrebbe a mancare non mi spaventa questa cosa della macchina è che verrebbe a mancare una cosa fondamentale che poi c'è nel film cioè questo software è stato creato su misura per il protagonista lei è profonda tanto quanto lui ha gli stessi interessi parlano nello stesso linguaggio ma i rapporti d'amore non sono questo i rapporti d'amore sono delle a volte delle guerre delle battaglie sono degli scontri e invece quello che mi fa paura è che il dispositivo che hai davanti e che potrebbe essere ok la tua futura fidanzato il tuo futuro fidanzato ti darà sempre ragione e quella è la solitudine che potremmo rischiare di vivere questa è la cosa scusami profondamente diseducativa di un film del genere nel senso che ti fa credere che l'ideale della persona di cui ti innamorerai sia che sia uguale a te fondamentalmente quindi ci continua a allontanare la consapevolezza che noi rifiutiamo disperatamente del fatto che le persone di cui ti innamori e con cui vuoi vivere deve essere anche le persone con cui litighi che ha idee diverse dalle tue gusti diversi dai tuoi eccetera sarebbe molto più importante insegnare alla gente questa cosa che non finanziare con i miliardi questo genere di progresso tecnologico che uno si chiede anche appunto esattamente perché vogliamo questo tipo di progresso tecnologico poi avviene avviene il conflitto all'interno del film però è un conflitto in cui entrambi si rendono conto che stanno parlando in due tempi spazi differenti quindi è una storia destinata a finire eppure lui ha creduto di aver trovato qualcosa di perfetto e idem lei che dice sto andando molto oltre bello perché io ero programmata poi scusami dato che tu hai detto manca anche qualcosa di molto importante in effetti manca anche qualcosa di molto importante il corpo che magari sarebbe meglio quello di ricordarsi manca il corpo quindi questa è la mia la mia certezza la macchia non sostituirà l'uomo quando si parla di futuro un sentimento che accomuna molti è l'ansia legata al futuro tant'è che si parla tantissimo di andare in terapia tu hai scritto un libro dove questa cosa è molto presente ti volevo chiedere se sei mai stata in terapia io sono in terapia e temo e credo che non ne uscirò molto velocemente nel senso che il percorso della terapia è un percorso lungo l'ansia che che in qualche modo mi ha un po' sempre accompagnata nell'ultimo periodo si è acuita in maniera prepotente la solitudine della quarantena del lockdown del primo lockdown e poi la mancata libertà e mille altre cose che certezze sicurezze che invece sono venute a crollare anche il bello della vita ti sorprende in questo modo e quindi ho deciso di affrontare il percorso terapeutico perché in questa solitudine sono venute fuori tantissimi aspetti di me che non erano risolti una bambina irrisolta e allora per impegnare benissimo le tue energie per non sprecare il tempo che hai che è poco perché noi abbiamo poco tempo è un tabù nella società secondo te? non lo è del tutto ma non è ancora compreso noi siamo impegnati a allenare il corpo ad allenarci per essere belli prestanti per rimanere degli eterni giovani e va bene ci sono anch'io dentro e va bene così però la palestra la mente è una palestra fondamentale è quella che decide tutto di te e quindi riuscire a sdoganare questo silenzio e questo tabù è fondamentale e l'ho fatto attraverso il romanzo e questo cuore non mente era importante tra le varianze legate al futuro c'è quella di trovare il proprio posto nel mondo ti volevo chiedere se secondo te le scuole in questo senso possono aiutare oppure se l'idea di diventare degli esseri umani produttivi che funzionano annichilisce la genuina ricerca di se stessi oggi il rischio è quello cioè poi è un rischio che si è già materializzato non è neanche un rischio cioè l'idea che l'unico scopo per cui si va a scuola è di trovare il proprio posto come produttori all'interno dell'economia il che come dire se lo aggiungi al fatto che poi una volta che esci dalla scuola scopri che nessuno ti vuole invece e che il tuo posto non c'è per niente e si continua ad alimentare l'idea che se la scuola fosse più capace di stare dietro alle esigenze del mercato allora invece magicamente tutti lavorerebbero cosa che palesemente è falsa cioè il nostro sistema economico è fatto per avere una percentuale altissima di disoccupati ecco e quindi sì qui in questo modo si crea un'ansia costante mentre invece forse se si fosse di nuovo capaci di dire che ovviamente è importantissimo trovare un proprio posto nella società e nella vita e nel lavoro ma è anche importantissimo fare i conti con se stessi e avere una testa aperta per capire come è fatto il mondo dentro cui sei nato ecco che la scuola quello deve fare innanzitutto lo so che sono delle banalità perché tanti intellettuali lo ripetono però lo si ripete nel nulla perché invece chiunque possa decidere è prigioniero di quest'altra prospettiva se si desse più spazio alle materie artistiche a musica eccetera come potrebbe cambiare il futuro secondo te più spazio all'interno della scuola dico all'interno della scuola è fondamentale io studiavo musica effettivamente ed era è uno spazio di libertà che è di creatività che a scuola non ci viene insegnata è quella cosa per ritornare alla storia delle date imparare la memoria il voto questa cosa di dire 9 10 8 tu sei un 7 a me quelle robe mi fanno impazzire ecco insegnare allo studente al ragazzo che esiste un mondo di libertà di creatività di espressione è fondamentale l'arte per me l'uomo senza arte è solo un uomo è solo un uomo l'uomo con l'arte si avvicina a Dio si avvicina al cielo si avvicina a qualcosa di più alto cerca di innalzarsi con l'arte l'uomo secondo me dovremmo insegnarlo ai ragazzi a scuola e approfondire queste materie Alessandro qual è la più grande storia d'amore di tutti i tempi per te? ah ah valgono anche quelle inventate quelle immaginarie la fiction sì è allora quella del maestro di Margherita nel romanzo di Bulgakov quella è la più grande storia d'amore mai raccontata secondo me con questi due amanti separati separati perché siamo a Mosca negli anni 30 è sotto la dittatura di Stalin anche se la dittatura non si vede perché il romanzo non parla di quello parla di vite private però in realtà si capisce che c'è dietro e loro naturalmente è una coppia illegale lui è un po' fuori di testa è un grandissimo scrittore è un po' fuori di testa e lei è sposata con un altro ma che non ama con uno qualunque e poi si incontrano lui vive in questo scantinato in un seminterrato di una villetta dove ha questa stanzuccia eccetera e lei lo va a trovare da lì e loro vivono questo amore e poi a un certo punto sembra che vada tutto a finire molto male perché lui veramente va davvero un po' fuori di testa anche perché lui è uno scrittore che non riesce a pubblicare e lì Bulgakov parla anche appunto di lui e dei suoi colleghi la fatica che si faceva per far passare un romanzo rischiando sempre di finire invece in campo di concentramento e lui alla fine va fuori di testa finisce in clinica psichiatrica lei non sa neanche dove è finito non sa niente e poi in tutto questo in tutto questo Satana arriva a Mosca con l'idea di mettere sotto sopra Mosca con una serie di aiutanti fantastici un gatto parlante di colpo il romanzo realistico diventa un romanzo fantasy e il diavolo a Mosca fra mille cose che ha a che fare ha anche bisogno di una che gli faccia da regina quando darà una grande festa per tutti i defunti che verranno fatti e becca questa margherita e lei la manda a prendere sulla scopa naturalmente la trasforma in strega e la manda a prendere e le dice accetta di fare la regina il mio ballo e le dice se si accetta avrà una ricompensa potrà chiedere una cosa qualunque cosa voglia una cosa io gliela darò e lei accetta e fa questo lavoro faticosissimo di fare appunto la regina in un ballo in cui è pieno di vampiri di mostri di lupi mannari di delinquenti del passato che è pieno di dannati questo ballo c'è una ragazza che è all'inferno perché è rimasta incinta ha ucciso il suo bambino non era sposata e all'inferno le portano tutti i giorni il fazzolettino con cui lei ha strangolato ha soffocato il suo bambino e Margherita quando finalmente le dicono adesso adesso può chiedere una cosa e Margherita non ce la fa a chiedere ridatemi il mio amante non ce la fa e dice voglio che non portino più a Frida il suo fazzoletto e Satana dice sento puzza qui dentro sento puzza di compassione però ho promesso quindi va bene ma io queste cose non le faccio lo faccio a lei chiami pure Frida Margherita chiama Frida Frida arriva nuda tutti inutili disperata e dice Frida non ti porteranno più il fazzoletto e a questo punto Margherita si sente di colpo stanchissima e distrutta e chiede di tornare a casa e Satana e le dice un momento io avevo detto che lei poteva chiedermi qualunque cosa io l'avrei fatta io non ho fatto niente quindi ha ancora diritto di chiedere una cosa e in quel momento Margherita di colpo dice voglio che adesso subito in questo preciso momento mi riportino qui il mio amante il maestro mi si è soprannominato il maestro e in quel preciso istante lui compare lì nella cartella clinica la clinica è cancellata lui non c'è mai stato in clinica lui ricompare lì e poi lui però è fuori di testa è pieno di un dolore e Margherita cerca di capire lui aveva scritto un grande romanzo e poi l'aveva bruciato perché non riusciva a pubblicarlo e quindi lui ha dentro questo dolore e non riesce a guarire questo dolore in quel preciso momento quindi Margherita guarda Satana e Satana dice ma cos'è questa storia lui ha bruciato il manoscritto e Satana dice mi scusi ma non è possibile i manoscritti non bruciano e poi si rivolge al gatto parlante e dice dove è il manoscritto e il gatto è seduto su una pila di copie del manoscritto e io non riesco mai a raccontare questa cosa senza che gli leggano le lacrime agli occhi perché è la più grande storia d'amore bellissimo che si è mai stata raccontata bellissimo ma io lo amo molto bello grazie mille che bello di averci raccontato questa storia non la conoscevo per avercela raccontata così questa tagliata lei però mi raccomando ma no assolutamente no teniamo solo questa tagliamo tutto il resto ti prego di non chiederla a me questa domanda perché io non ce l'ho no quindi lasciamo la sua volevo chiederti la canzone d'amore più bella di tutti i tempi invece allora non è facile perché sono state scritte tantissime canzoni d'amore e tra l'altro secondo me le canzoni d'amore quando si scrivono hanno qualcosa di triste perché di solito sono di amori finiti perché quando sei felice è raro che tu scrivi come dissero a Luigi Tenco perché scrivi solo canzoni tristi perché quando sono felicesco è un po' così però tra le canzoni più belle secondo me ecco riesco a ricordare Senza fine di Gino Paoli è quella una bellissima canzone d'amore positiva e mi piace perché dimentica l'aspetto effimero dell'amore cioè quello il momento in cui lui dice senza fine tu sei un attimo senza fine non hai ieri non hai domani è un racconto degli occhi di un innamorato che probabilmente sa che quell'amore ha fine ma in quel momento sta raccontando la sua eternità ecco quello è un brano che io amo particolarmente wow emozionata grazie ragazzi vi faccio vedere la clip di un film che cerca di raccontare un preciso passato ma forse non ci riesce molto bene il primo punto all'ordine del giorno e anche l'ultimo se votiamo l'imposta all'ordine Mr. Sims all'ordine del giorno c'è un discorso del colonnello Barwell dell'esercito continentale colonnello Barwell sapete tutti perché sono qui io non sono un oratore e non voglio tentare di convincervi della bontà della nostra causa sono un soldato e noi siamo in guerra da Philadelphia ci attendiamo una dichiarazione di indipendenza otto delle tredici colonie hanno decretato imposte per il mantenimento di un esercito continentale io chiedo alla Carolina del sud di essere la nonna il Massachusetts e la Virginia possono essere in guerra ma la Carolina del sud non lo è ben detto questa non è la guerra per l'indipendenza di una o due colonie ma per l'indipendenza di una nazione di quale nazione si tratta? di una nazione americana tale nazione non esiste e nominarla è tradimento noi siamo cittadini di una nazione americana e i nostri diritti sono minacciati da un tiranno che ha 3.000 miglia di distanza vorreste dirmi prego mister Howard perché dovrei scambiare un tiranno a 3.000 miglia di distanza con 3.000 tiranni lontani solo un miglio un'assemblea legislativa eletta può calpestare i diritti di un uomo quanto un re capitano Marti ritenevo che foste un patriota se voi per patriota intendete irato per la tassazione senza rappresentanza beh sì lo sono se credo che le colonie americane debbano governarsi indipendentemente sì sono convinto che possano e che debbano ma se voi mi chiedete se sono disposto a entrare in guerra contro l'Inghilterra beh allora la risposta è decisamente no Alessandro ci hai confessato che questo film pieno di scene a rallenti in realtà non racconta proprio molto bene quel periodo come mai non è accolatissimo The Patriot con Mel Gibson beh la scena che abbiamo visto non aveva niente che non andasse ma ha un difetto molto specifico questo film che è anche abbastanza frequente in realtà nei film che raccontano il passato si propone di raccontare delle atrocità perché in effetti in certi momenti la guerra tra gli Stati Uniti e la guerra di indipendenza degli Stati Uniti ha conosciuto anche quelle che all'epoca erano considerate atrocità tipo fucilazione dei prigionieri nemici perché come dire in tutti i tempi quelli che considerano che chi gli spara addosso non sono soldati regolari ma appunto sono dei civili armati si ritiene di avere il diritto di fucilarli ultimi i nazisti con i partigiani ecco queste cose succedevano anche allora ma siccome Mel Gibson di solito non si accontenta di così poco allora ecco che i malvagi che sono gli inglesi qui sparano in testa i bambini chiudono la gente nelle chiese poi appiccano il fuoco eccetera risultato uno dice ma loro non erano solo i nazisti che hanno fatto queste cose ma loro sono sempre successe ecco e questo secondo me è un messaggio grave nel senso che credere che le atrocità in ogni epoca si siano commesse atrocità le stesse ecco significa appunto dimenticare che noi nel novecento siamo riusciti a fare delle cose che invece nessuna epoca si era mai sognata di fare qual è invece un film che consiglieresti a Claudia di vedere consigliare i film è una delle cose più difficili del mondo anche perché non conosci i miei gusti quindi non vorrei sbagliarsi Alessandro e anche con le persone di cui dovrei conoscere i gusti mi chiederò anche a te se vuoi iniziare già a pensarci qual è un film che consiglieresti mi avete messo in un'istituzione protetta stiamo parlando di film che raccontano la storia beh un film che racconta il settecento e le rivoluzioni del settecento in un tutt'altro modo rispetto a questo è il mondo nuovo di Scola tra l'altro con un grande cast c'è Mastroianni Ed è Anne Cigou insomma comunque racconta l'inizio della rivoluzione francese la fuga del re a Varenne eccetera con tutta una serie di personaggi Mastroianni rappresenta un vecchissimo Casanova ormai in disarmo perché è invecchiato però è ancora vivo e quello è un film di una finezza straordinaria e quindi insomma ecco quindi adesso tocca a me ma sempre nel mio ambito storico no? no no perché è troppo facile no un film che ti piace a te un film che io consiglio ad Alessandro Barbero è Nocturnal Animal è molto bello è una storia molto dolorosa però c'è un c'è un racconto sovrapposto molto bello tra passato e presente tra finzione e realtà perché si tratta di uno scrittore che nello scrivere insomma di questa di questa storia vive in prima persona la storia che sta scrivendo e c'è questa sorta di sdoppiamento molto bello molto intenso poi ce ne sono altri molto più leggeri ma che io una volta al mese riguardo sempre tipo Lost in Translation Sofia Coppola per me io adoro quelle robe lì ce ne sarebbero altri però questi due forse sono quelli in questo momento Lost in Translation l'ho visto non so se lo rivedrei tutti i mesi ma l'ho visto non so perché ma non lo sapevo non lo neanche mai sentito è bellissima lo consiglio no 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 tu invece nella tua vita esperienza da musicista ti senti influenzata dall'America inevitabilmente sì noi essendo anche un paese molto piccolo musicalmente ci lasciamo tanto ispirare è vero che abbiamo una forma tutta nostra di cantautorato e di grande poesia che all'estero ci invidiano però soprattutto negli ultimi anni per l'Italia per la discografia italiana è stata molto più facile in qualche modo essere il riflesso di un'immagine che arriva da fuori dall'estero e ci sono delle cose per cui è bello lasciarsi influenzare e non mi ostino a mettermi di traverso dire no io questa cosa non ci cadrò ci sono delle altre che secondo me vanno preservate perché è un po' come lasciarsi scrivere addosso una storia non tua e tu devi scrivere la tua di storia e allora il fatto della contaminazione può essere un buon compromesso ma bisogna stare attenti a non essere poi macchiette di qualcos'altro no infatti noi oggi siamo in bilico fra essere italiani e essere nel mondo ed è molto difficile riuscire a fare entrambe le cose i cantautori italiani sono una cosa grandiosa naturalmente li conosciamo solo noi una possibile definizione di chi è un italiano è uno che sa chi sono De Gregori Battisti De Andrè perché nessun altro ovviamente fuori dall'Italia sa chi sono costoro e invece fuori c'è una cultura quella di Hollywood appunto parlando di Hollywood in generale in letteratura c'è un po' meno forse spadroneggiare dell'America ma nel cinema e nella musica sì inevitabilmente e riuscire a rimanere italiani senza diventare provinciali essendo contemporaneamente cittadini del mondo è una delle sfide del futuro credo come è cambiato il ruolo e la considerazione di chi fa musica nel corso del tempo beh è cambiato molto come è cambiato la considerazione di chi fa sport per esempio degli attori cioè in generale ma questa è una grande banalità però insomma dal novecento si è creato questo ruolo questo status leggendario mitico dei grandi degli attori dei cantanti e degli sportivi che in passato non c'è mai stato l'unica eccezione forse erano gli antichi greci con quelli che vincevano le olimpiadi però gli antichi greci quelli che gareggiavano le olimpiadi erano tutti ricchi erano tutti nobili persone comunque che avevano già alle spalle mentre l'idea che uno che viene da una posizione sociale qualunque che non è nessuno ma che è bravissimo a fare una di queste cose non è soltanto uno come dire stimato e pacche sulle spalle ma diventa l'idolo di tutti ed è molto più importante di un gran signore o di un ministro o di un principe ecco questa è una cosa soltanto del nostro mondo prima non c'è mai stata chi faceva musica ha sempre avuto un ruolo un riconoscimento però non diventavano dei divi ecco questo invece è una cosa dell'oggi una creazione del novecento diciamo sì sì volevo chiederti se sei d'accordo e ti senti così oppure se ti senti che delle volte non viene davvero riconosciuto il tuo lavoro in quanto lavoro se ti dicono sì ma qual è il tuo lavoro vero sì ma ok che canti va bene questa cosa di cantare ma anch'io canto allora prima di circa otto anni fa dire faccio la cantautrice sì però qual è il tuo vero lavoro cioè come vivi e poi la gente si chiede come paghi l'affitto e all'epoca effettivamente facevo la cameriera così pagavo l'affitto oggi oggi è più semplice a volte il nome mi precede mi precede nel lavoro che faccio quindi non devo mai specificare poi se proprio vogliamo essere precisini fatico a far dire alle persone cantautrice che è diverso da cantante sono dei lavori diversi cioè una scrive e canta e l'altra canta cose scritte da altre ecco queste sono quelle che mi fanno soffrire di più perché effettivamente il sì sì ok ma che lavoro fai non l'ho più vissuto fortunatamente invece la definizione di cantautrice è un concetto che non riesco a far sedimentare nell'altro soprattutto nei giornalisti musicali in cui i titoli la cantante levante tu dici non c'è niente di male ho fatto bene ho fatto il lancio io sono anche autrice allora perché non so male le due cose a dire cantautrice certo perché nessuno dice il cantante De Gregori o il cantante Dalla certo ma dici che è perché sei una donna sì di sicurissimo il cantore è un termine maschile si declina solo al maschile assolutamente ci sono proprio delle grandissime differenze no poi non faremo polemica su questo però è perché sono una donna è più facile è più facile che una donna sia una cantante no? certo è l'uomo che scrive di solito abbiamo fatto bene ho già fatto il lancio di questa puntata e tu sei cantautrice meno male ti sei salvata che sì vi chiedo l'ultima cosa dovete raccontare a un bambino in una frase che cosa ci siamo detti oggi? abbiamo calzeggiato può andare sì può andare ma non è la verità oggi caspita è molto difficile la verità vera è indicibile non puoi dire abbiamo parlato della vita e della morte eppure la verità abbiamo parlato della vita e della morte comunque si può dire anche abbiamo parlato della vita e della morte in un modo abbastanza morbido è così sì oppure abbiamo attraversato il tempo nel passato presente e futuro poetica grazie mille grazie molto contento di aver parlato con voi queste tazze sono per voi ve le potete portare vi offro un caffè vi faccio firmare il ciak io lo vorrei volentieri andiamo voi volete il caffè caldo o freddo? io non lo prendo grazie è caldo lungo sì avete mantenuto la promessa cosa ti avevano promesso? a me non mi hanno promesso niente ero il camerino che mi diceva ma poi due siete stati bravi non mi avete messo difficili ma caspita io non ho studiato davanti al prof io è stata una bellissima lezione veramente una bellissima lezione una cosa che ho fatto di recente non tantissimo ma qualche volta è leggere ad altavoce bello io lo facevo da ragazzina perché manco di concentrazione e leggere ad altavoce mi mantiene presente alla lettura si tipo stringe a tenere il focus infatti è figo sai che nell'antichità leggevano solo così nel quarto o quinto secolo hanno cominciato a scoprire che si poteva anche leggere a bassa voce cioè in silenzio e c'è un pasto di Sant'Agostino che trova San Girolamo che è più vecchio di lui e lo vede che sta facendo una cosa strana è lì con un libro e non si sente niente e Agostino gli chiede il cazzo sta facendo e gli dice che sta leggendo leggo per i fatti miei esatto leggo nella mente grazie mille dei caffè grazie a voi grazie a voi grazie grazie a voi 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 grazie a voi